Stiamo preparando la scenografia per Hell Music, l'abbiamo divisa diciamo in due parti, una che va a rappresentare tra virgolette la luce, quindi un ambiente un po' più chiaro, più colorato, un altro che va a rappresentare la strada diciamo, abbiamo diviso in queste due fasi diciamo, la scenografia, sta avvenendo bene, una bella esperienza è stata. Cioè perché comunque vedere tutti questi ragazzi di età diversa coinvolti a ballare, cantare, dipingere, cioè a far venire un qualcosa fuori, comunque sembra una bella esperienza. Non so più che dire.